Una casa famiglia di Buenos Aires, gestita da religiose che si prendono cura di mamme e adolescenti e dei loro piccoli figli. Ciao. Ciao. Lei è Suor Paola, la nuova dall'Italia. Fra loro, due diciassettenni, bambine trasformate bruscamente in madri e una giovane suora venuta dall'Italia per terminare il noviziato e prendere i voti perpetui. È in questo luogo e attraverso questi personaggi che si snoda la vicenda di Maternal, l'opera prima di Maura del Pero, profonda e coinvolgente, già vincitrice di una menzione speciale al Festival di Locarno. Un film, il suo, tutto al femminile, che nasce dall'esperienza diretta in un centro di accoglienza per ragazze e madri, dove la del Pero ha lavorato per lungo tempo, e che restituisce sullo schermo, con sottile equilibrio e rarefatta sensibilità, atmosfere e caratteri, ambienti e contraddizioni. Storia di donne, prima ancora che di fede, riflessione delicata sulla maternità, esibita o nascosta, abbandonata o desiderata, Maternal mette a confronto, senza pregiudizie, con estremo pudore, la devozione a Dio e l'istinto di libertà, le leggi dell'uomo e le regole della natura, trovando la sua cifra più intima nelle tenerezze lievi, nelle amarezze trattenute e soffocate di chi si sente sconfitto dalla vita, nei gesti di pace, dell'amore cristiano. Un mondo interiore, complesso e sfumato, osservato da una giusta distanza emotiva, capace di rendere credibile le quotidianità nell'istituto religioso attraverso l'uso di inquadrature fisse, ma dense di significati. Più delle parole sono i silenzi, gli sguardi e i corpi che compongono la materia filmica di Maternal, dove irrequietezza e compostezza, inquietudine e serenità arrivano di sequenza in sequenza a sovrapporsi e a cambiarsi di segno, mettendo in discussione dunque le poche o tante certezze acquisite, permettendo così alle tre protagoniste di specchiarsi liberamente l'una nell'altra. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS